Questo ambizioso e nuovo progetto che sta per partire darà praticamente il massimo del monitoraggio. Praticamente è un dirigibile, la forma sarà innovativa, grande, che avrà il pilotaggio remoto, una condotta remoto, non ci sarà a bordo il personale aeronavigante, dove all'interno ci saranno dei droni, uno sciame di droni che decollerà da questo dirigibile, portandosi nelle varie direzioni operative, che praticamente ogni drone di questo sarà a carico di energia, perché tutti sappiamo che il problema oggi del drone è l'autonomia. Con questa piattaforma, chiamiamolo così, volante, il dirigibile, poi lo sappiamo tutti, è praticamente quasi stazionario, può stare fermo e i droni riescono ad uscire, ad andare, ad intercettare le varie problematiche. Ogni drone avrà il suo compito, ci sarà il drone che, come dicono i professori universitari, c'è chi avrà la vista, chi avrà l'olfatto, chi avrà l'udito, cioè praticamente non scapperà niente. Questa nuova tecnologia permetterà veramente a tutti di stare più sereni, ma non solo sul campo ambientale. A proposito di questo, avrà anche una funzione importante per la sicurezza? Certamente, verrà adottato, verrà utilizzato anche per la salvaguardia del territorio, dei confini, basta pensare porti, interporti, ferrovie, arterie stradali, e sarà sicuramente, e lo è, non è che sarà sicuramente, un efficace deterrente repressivo contro il terrorismo. Ok, vogliamo aggiungere qualche altra cosa? Che volessimo mettere? Il terrorismo. No, basta. No, no, che sono orgoglioso che i decolli... No, questo lo posso dire. Di tutto questo progetto voglio concludere infine e ringraziare il professor Saccomanno Antonello dell'Università di Salerno, che praticamente darà questo nuovo input a questa sorveglianza, a questo monitoraggio, ed io, insieme all'amministrazione, siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio questo dirigibile che farà i voli di decollo, di collaudi, per quanto riguarda le certificazioni, proprio a Capaccio Pesto. Grazie.